...questa fa! Che cazzo è stato? Non sono mai stata. No! Perciò chi ha? Un piccolo umano. Facile, facile. Ma chi è? Paul, idiota che non sei altro! Che... Come ti avrò chi in mente di portare una signora nel nostro nascondiglio? Nel mio nascondiglio! Non è niente! Ehi! Chi viene ora? Spero che sei a posto, Wendy. Siti! Mi chiamo Kelly. Io sono a posto. Sono solo una giocca, ragazzi. Innamorata di un uomo benissimo. Tu devi essere Kendra. Proprio tu! Sei quel tipo folle in costume! Ehi! Cosa sembra un uomo? Il killer di Wayne Delancey! Non ha idea. Ok. Mi piace quando i piccoli insetti strisciano nella tela del ragno. Sei un'assassina? No. Mi pagano per dire frasi a effetto tipo... Vedi di non farci incazzare se non vuoi fare una brutta fine insieme a tutti quelli che ti circondano. Per chi lavori? Un cadavere ambulante come te non dovrebbe preoccuparsi di questo. Divertente! Il tuo errore è il nostro vantaggio! Un... Vero? No! La morte ti ha raggiunto da una botto! Per mano di Silver Shroud! Porri! No! 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 Grazie.